Torna visitabile il Cardello a Casolo Valsegno. Sono terminati i lavori di restauro di casa Oriani dove Alfredo Oriani trascorse gran parte della sua vita e scrisse tutte le sue opere. I lavori di consolidamento sono stati finanziati dalla regione Emilia Romagna con 220.500 euro, il 70% della spesa che ammonta complessivamente a 315.000 euro. L'intervento ha permesso inoltre di riaprire le cantine dell'antica di Mora, prima del restauro non aperto al pubblico. Casa Oriani è oggi un rare esempio di abitazione signorile romagnola dell'8.900. Manutenzione straordinaria anche per il parco e il bosco del Cardello, per altri 54.000 euro per la conservazione e il miglioramento dell'area naturalistica che con le sue quasi 30.000 piante è stata dichiarata dal Ministero per i beni culturali e ambientali zona di notevole interesse pubblico. A completamento dei lavori di recupero del Cardello anche un restauro conservativo del mausoleo al quale hanno collaborato anche gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna. Con l'intervento che si è realizzato, che si è completato come era previsto nel cronoprogramma in aprile, da maggio è stato riaperto al pubblico il Cardello, dopo un importante intervento di ristrutturazione e manutenzione che lo renderà maggiormente fruibile, ne consentirà di visitare anche le parti che prima non erano accessibili, permetterà ancora di più di visitare anche il parco, il grande parco, oltre 30.000 alberi che sono qui accanto al Cardello fino al laghetto che è al centro di questo parco. È un luogo assolutamente unico che merita essere visitato, essere conosciuto, che è qui in questa parte della Valle del Segno un elemento di attrazione importante, non solo per caso, non solo per la Valle del Segno, ma per tutta la Romagna faentina. Quali saranno i programmi del Comune sul Cardello? I programmi sul Cardello sono intanto i programmi che abbiamo, li condividiamo con IF, Imola Faenza Tourism Company, per organizzare e promuovere le visite guidate al Cardello. Organizzeremo degli eventi, delle escursioni nel territorio che abbiano come punto di partenza di arrivo il Cardello, organizzando qui in questo prato, in quest'area verde, in collaborazione con i ristoranti casolani, dei picnic. E al Cardello si organizzano anche ovviamente eventi musicali nella qui adiacente Sala Pifferi, eventi culturali. Cito per tutti l'incontro che ogni anno, la terza domenica di settembre, la Fondazione Casa di Oriani, tiene qui per raccontare non solo l'opera di Oriani, ma anche quella che è stata la storia letteraria, la storia politica, la storia culturale del nostro Paese a cavallo fra 8-900, come aveva chiesto che si facesse la signora Pifferi nel suo lassito testamentale.